gentili telespettatori buona giornata la destra francese sta con meloni sta con la destra italiana in chiara contrapposizione con macron macron che si è fregato da solo con le sue mani prima fa un patto con meloni mandami lo ng tu però fai scendere tutti quelli che sono in italia chiudiamoli la storia poi quando si è accorto che aveva tutti contro governo e opposizione perché crea il caso la prima ng che arriva in francia è fatta da adesso in poi le altre ng si presenteranno davanti la francia dicendo facci sbarcare come fanno con l'italia e così in queste ore tutta l'estrema destra o meglio perché i giornaloni continuano a chiamarla l'estrema destra la destra perché estrema allora quando parliamo di progressisti li chiamiamo gli estremi progressisti i progressisti estremi ma fatemi un piacere va insomma attenzione che i giornali ci giocano con le parole cercano di influenzare l'opinione pubblica al posto di parlare dei conservatori francesi o anche la destra francese se non li vuoi chiamare conservatori estrema destra io direi estrema mancanza di in queste ore la destra francese i conservatori marine le pen eric zemmour e marion mareschal mareschal o mareschal mareschal le pen marion mareschal le pen cos'è un altro le pen ma scrivono tutti con le pen comprategli una biro sostengono tutti le ragioni dell'italia contro il governo del proprio paese ah bene secondo marine le pen l'ocean viking non avrebbe dovuto approdare né in italia né in francia ma in tunisia o in algeria o addirittura in libia nulla impedisce che un incontro formale tra macron e meloni venga organizzato all'ultimo momento al g20 ma per ora la soluzione della crisi appare molto lontana il fatto è che i francesi temono temono davvero che ci sia ci siano altri altri sbarchi una reazione spropositata di un paese di un governo che si sente su allora da quello che si vede la francia vuole comandare in europa vuole comandare nella nato vuole comandare in geopolitica loro vogliono comandare loro possono comandare loro sono in europa come tutti i 27 paesi tutti compari dignità possiamo dire che ci sono diverse forze economiche c'è la prima forza economica europea che la germania poi segue la francia e poi l'italia queste sono le prime tre economie le prime tre economie europee diciamo che non ci deve essere nessuno che comanda e nessuno che traina l'europa l'europa è una organizzazione collegiale non c'è un'europa di serie a serie b e serie c non ci sono tre campionati diversi ci sono 27 paesi naturalmente ci sono dei paesi con una situazione economica più debole più svantaggiata ci sono dei paesi che hanno un'economia molto più piccola però questo non deve far sì che ci siano economie che tentino di spadroneggiare perché se così fosse non avrebbe neanche idea e non avrebbe neanche non sarebbe neanche logica l'esistenza dell'europa un'europa tenuta insieme per modo di dire da una moneta da un parlamento che dice questo che fa quell'altro però realmente è un'europa che non è così unita siamo molto lontani da un'organizzazione come gli stati uniti d'america o gli stati uniti messicani perché lì sono stati uniti in una federazione l'europa non sono degli stati uniti in una federazione sono degli stati collegati da una moneta da un parlamento primordiale da una difesa comunitaria primordiale le le questi stati che compongono l'europa hanno una forte autonomia e una forte identità personale non sono stati che stanno cedendo sovranità all'europa anzi se voi guardate la francia come si sta comportando con tutta questa tutta questa cosa che poi la lezione le lezioni che vuole dare la francia di moralità e di umanità ma vi ricordate che loro cosa cosa combinano al confine di ventimiglia vi ricordate i servizi fatti dalle televisioni italiane dove mettevano le persone nei container dove falsificavano i documenti di alcuni migranti dicendogli mettete che siete maggiorenni così e poi soprattutto la polizia francese che di notte portava oggi non lo so se lo fa ancora portava i migranti in italia li lasciava sulle strade italiane questa è la loro grande umanità questa è la grande collaborazione loro che fanno la paternale agli altri si chiama estrema ipocrisia o anche la doppia morale una doppia gigantesca immensa morale dicono una cosa e ne fanno un'altra è quella classica ipocrisia che di tante persone che io ho conosciuto nella vita io ho conosciuto tante persone che andavano tutti i giorni tutte le domeniche in chiesa che parlavano anche al microfono sapete quelli salmo responsoriale ecco e poi io sentivo quello che dicevano e come si comportavano quindi c'è una parte mostrata e c'è una parte invece interiore che si esterna nel privato quella è la doppia morale davanti agli altri fai vedere che tu sei in un certo modo poi nel privato in famiglia o quando fai gli affari tuoi fai esattamente l'opposto di quello che in pubblico dici questa è la doppia morale no dice che gli italiani sono poco umani e loro portano di nascosto la notte i migranti in italia hanno fatto scendere un quattordicenne dal treno minorenne e noi saremmo disumani la polizia italiana non farebbe mai e ne sono sicuro ci metterei ci giocherei tutto la polizia italiana non farebbe mai scendere un minorenne dal treno italiano di 14 anni questa è la differenza tra quei cattivoni italiani pertanto forza Italia non Berlusconi e forza governo Meloni fate risollevare la testa all'Italia orgoglio nazionale che è mancato per tanto tempo per tanto tempo ci siamo fatti mettere i piedi in testa arrivederci a tutti e grazie